Sulic a cercare Morra, i due non si capiscono, attenzione però la tiene in campo Munari che arriva come un missile, la palla per Morra in area, prova le finte, il tocco al limite per Sulic che appoggia indietro, non c'è lo spazio per il tiro ma abbiamo sempre la palla a noi, la finta molto bene con Gonzi che la mette, autorete, 2 a 1 per noi, incredibile, il cross di Gonzi, Gerbauda la devia e passiamo in vantaggio al minuto 80 e adesso basta però farci riprendere. Al minuto 80 con il cross di Gonzi entra in scivolata Gerbaudo e la mette alle spalle del suo portiere, ci vuole anche un pizzico di fortuna per una squadra che se la sta meritando, un bel cambio di gioco con un cross di prima da parte di Gonzi e la deviazione di Gerbaudo che inganna tutti i giocatori del Mantova a terra, 81 minuti, 9 minuti più recupero adesso per tenere questo vantaggio. Piacenza 2, Mantova 1, anzi corrego, Mantova 1, Piacenza 2.